Maurizio il papà bello che dona la vita che offre la vita. Don Mimo Battaglia prende spunto dalla lettura del Vangelo sul buon pastore che spiega nel testo originario e il pastore bello per parlare di Maurizio Cerrato l'uomo di 61 anni ucciso a torre annunziata in un'aggressione subita dopo aver difeso la figlia alla quale poco prima era stata bucata una ruota della sua auto solo perché aveva parcheggiato in un posto della pubblica strada occupato da una sedia. L'arcivescovo metropolita di Napoli ha ufficiato ieri pomeriggio le esegue di Cerrato nella chiesa dello Spirito Santo di Corso Vittorio Emanuele III. Non cederemo alle intimidazioni di quanti credono di seminare paura con la violenza ma non possiamo essere lasciati soli. Né la preoccupazione né la paura né le minacce possono zittire la nostra voce o fermare il nostro cammino. Voltare pagine è possibile se tutti ci sentiremo coinvolti. Don Domenico Battaglia si rivolge alla moglie Tania e alle due figlie di Maurizio. A tutti le ultime parole dell'arcivescovo chiedono scatto di dignità. Lo dobbiamo a Maurizio, lo dobbiamo alla vita, lo dobbiamo al Cristo risurdo. È la dignità a chiedercelo. Nella chiesa dello Spirito Santo le lacrime di tanti che hanno salutato con un lungo applauso l'uscita del feretro dalla chiesa. Cercheremo, si legge nel manifesto funebre della moglie e delle figlie. In ogni sguardo la luce dei tuoi occhi, in ogni sorriso la gioia del tuo cuore, in ogni gesto il tuo essere. Dacci la forza di continuare a vivere senza te e accompagna il nostro cammino sempre. Mostraci i tuoi occhi quando ci sentiremo perse. Ci mancherai sempre, grande eroe. Ti amiamo. Sabato pomeriggio grande partecipazione all'iniziativa promossa dalla locale sezione dell'Associazione Libera per commemorare l'uomo, posta dall'amministrazione comunale una corona di fiori.